Buondì, adesso arriviamo al capitolo primo con le prime tre note, una piccola parte in video e poi l'altra in audio perché c'è bisogno di vedere la musica più che la mia faccia allora in questo capitolo impariamo la semiminima, cioè il quarto, la pausa di semiminima, il do alto, chiamiamo alto perché ce n'è anche uno basso il la e il sol dunque il flauto si tiene più o meno verticale, diciamo non proprio così un'inclinazione, dipende dalle persone, dalle braccia eccetera ma non così come una trombetta se io lo poggio e lo tengo con la mano lui sta così, sta diritto il pollice tappa questo buco qua la prima nota che impariamo è il do il medio tappa questo pollice medio poi però devo mettere anche un altro pollice così con tre dita il flauto sta su tre dita non è una posizione molto stabile ma purtroppo non si può tenere il flauto in maniera stabile non è che lo possiamo afferrare così perché queste dita dovranno sollevare e abbassarsi anche piuttosto rapidamente per cui ci vuole leggerezza e non si può incollarsi il flauto alle dita gli strumenti più grandi hanno qui qualcosa una specie di fermo o qualcosa che il pollice della mano destra lo sostiene o addirittura hanno un aggancio qui lo si appende al collo saxofoni e altri la prima nota è l'ego queste sono le prime note che impariamo a suonare con il flauto dolce il segno alla fine della prima battuta non so se si vede vediamo un po' così dovrebbe vedersi comunque poi guarderemo lo spartito è una pausa e indica che dobbiamo stare zitti è facile stare zitti il problema è cosa fare dopo questa pausa dura un tempo in realtà non è che si sta zitti un tempo l'importante è che dopo un tempo si fa la nota dopo la pausa nota, 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 pausa nota che tradotto in musica è questo tipo di pausa è la durata di un tempo si chiama pausa di semi minima o di quarto alla fine degli esercizi alla fine degli esercizi troviamo una doppia linea perché per indicare che è finito una linea normale di battuta e una molto più spessa così si capisce che è finito preceduta in questo caso da due punti questi due punti non c'entrano niente con i due punti della lingua parlata e scritta vogliono dire che arrivati alla fine bisogna ricominciare da capo uno ripete come se uno dice dicendo dei numeri uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove arrivato alla fine uno, due, tre deve ripetere tutto da capo io quando registro non ripeto perché è un pochino noiosello e poi perché ripetere serve allo studente ma chi studia ebbene chi è arrivato alla fine dell'esercizio lo ripeta senza fermarsi come se l'esercizio continuasse come se fosse scritto su due righe cioè che continua dobbiamo ricominciare da capo ma solo per una volta effettivamente uno potrebbe dire ma anche la seconda volta mi trovo i due punti devo ricominciare non si finisce mai no, si ricomincia da capo si ripete una volta importante, già detto ma non bisogna usare la voce quando si dice tu nel flauto non è senti questo rumore e la voce no, è per capire cosa sia questo colpo di lingua l'abbiamo detto anche l'altra volta possiamo provare a dire questi tu a foni mettendo una mano davanti alla bocca sentiremo chiaramente dei colpi d'aria si sente proprio sono quelli che scandiscono l'inizio di ogni nota sul flauto bene, adesso via con il video e andiamo al solo audio esercizio numero uno prima di partire conto fino a quattro così do il tempo a me stesso uno, due, tre, quattro io sono un bravo musicista ma nonostante per fare questo esercizio mi aiuto battendo il piede perché il piede è abituato a camminare ha una sua regolarità se uno batte, io per esempio adesso che sto parlando sto battendo il piede non so se si sente e questo battito è regolare questo movimento è regolare quindi il mio piede che teoricamente sono io che lo comando ma in realtà è una parte del cervello non proprio quella razionale del parlare eccetera legata al movimento che lo comanda dice a me cioè io dico a me stesso il tempo perché in fondo suonare ha un aspetto razionale bisogna leggere, decifrare mettere le dita fare delle cose però anche ha un aspetto pre-razionale se la parola è giusta che è legato al movimento quindi la parte di me pre-razionale del mio cervello pre-razionale mi dà il tempo non posso darmelo con le mani perché le mani servono per suonare il piede invece non serve per suonare il flauto serve per suonare l'organo da chiesa e con la testa la parte razionale seguo questo tempo e vado avanti a tempo regolare esercizio numero 2 questa volta non conto fino a 4 ma solamente fino a 3 perché 3 quarti 3 semi-minimo ogni battuta 1 2 3 con anche due pause alla fine esercizio numero 3 conto fino a 4 1 2 3 4 non sono molto divertenti questi esercizi ma siamo agli inizi esercizio numero 4 attenzione che non è più un Do ma è un La il Do aveva la gamba in basso il La ha la gamba in alto ha qualche significato musicale questo no è solo una cosa di grafica quello che stabilisce che nota è e dove si trova il pallino e poi se è bianco se è nero se la gamba ha un riccio o no insomma ma che vada in alto la gamba che vada in basso non ha un significato musicale perlomeno una musica per flauto solo 1 2 3 4 ok esercizio numero 5 1 2 3 ma sono proprio distratto rifaccio il 5 1 2 3 già qui comincia ad esserci un po' di musica con due note diverse esercizio numero 6 1 2 3 4 ok esercizio numero 7 1 2 3 bene leggiamo non tutte le note hanno la stessa durata c'è una nota che durano due tempi si chiama minima è una nota bianca con la gamba è note che durano quattro tempi semi breve che nomi assurdi legati al passato ed è una nota bianca ma senza gamba di solito è anche scritta un po' più grande però è solo una scelta estetica l'importante è che sia bianca cioè vuota e senza gamba ricordiamoci di non respirare ogni nota si respira alla fine delle frasi come parlando dove era possibile ho segnato la fine delle frasi con un apostrofo che indica che in quel punto si può respirare ma l'apostrofo non è stato messo dove ci sono le pause perché evidentemente lì si può respirare e alla fine di ogni brano perché questi sono punti dove evidentemente si può respirare l'indicazione tu-u nell'esercizio 8 serve a ricordare che dobbiamo suonare una nota lunga a due tempi attenzione a non dare l'accento sulla seconda u quindi non tu-u ma tu-u cioè questa u in realtà continua avrei dovuto scrivere dieci u tu-u ma in coincidenza col tempo prima c'è un tu e poi c'è una u leggo il numero 8 senza flauto voce e mani cosa che vi consiglio di fare perché serve molto uno due tre quattro tu-u 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 bene esercizio numero 8 adesso col flauto uno due tre quattro nell'esercizio numero 9 battute due o quattro due e quattro la semibreve questa nota questo pataccone è lungo a quattro tempi attenzione non è lungo diciamo che nota lunga è lunga a quattro tempi ma la cosa più importante è che al quinto tempo capita qualcos'altro cioè adesso faccio con la voce voce e mani uno due tre quattro tu-u 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 in realtà le note non è molto importante quanto durano perché ci sono strumenti per esempio come la chitarra il pianoforte eccetera dove la nota lentamente si spegne per cui quanto dura è finché non si è spenta del tutto invece strumenti a fiato o l'organo la tieni per tutto il tempo che decidi di tenerla ma in realtà non è molto importante quando la nota finisce cioè quindi quanto è lunga la nota ma cosa fare nel punto dopo la fine cioè qui questa nota tu-u che duri quattro cinque, sei musicalmente non è molto importante quello che è importante è sapere cosa fare al colpo successivo perché le note sono la cosa importante delle note è l'inizio immaginate un suonatore di campane che dà delle martellate su queste campane cosa fa lui? lui segna l'inizio delle note c'è una nota lunga è segnata da quando comincia quella dopo vabbè queste sono cose che rivedremo anche più avanti esercizio 9 col flauto 1 2 3 4 bene e con questo è finita questa parte alla prossima e con questo è un'esercizio